È un brut in bocca, ma un extra dry al naso. Con queste bollicine così cremose, trova sempre il suo spazio in una giornata di chiunque. Quando mi piace avere il cassè? Sempre. Quando sei rilassato, quando sei un po' così con gli amici, quando sei a cena, il cassè ci sta sempre bene. È un vino che a me dal primo momento che Graziano me l'ha fatto conoscere, mi ha emozionata. Perché è un vino quasi che non ti aspetti. È un extra dry che ha questi sentori così tipici, ma da un po' in bocca è così lungo, è così profondo. E probabilmente, anzi sicuramente per il tipo di lavorazione che fa. Però è proprio un vino che sta bene, stia mangiando, facendoci un aperitivo. È un vino per tutti. E non può non piacere.